Siamo questa volta con delle margherite stupende e ritorniamo da Giordano che ci deve dire una cosa importante, soprattutto per le belle persone che abitano la nostra zona. Abitano, ci vivono. Lui le vede tutti i giorni passare, escono dalla Veridiana, fanno prendere l'autobus, escono dalla via Nicolaievca, dalla via Maronero, da via Bagarotti, da via Civitale del Friuli. Infatti se torniamo ancora, per la gente che c'è in giro qua, io lavoro troppo poco, per la gente che c'è. Ne stiamo inquadrando uno. Ma poi c'è da dire un'altra cosa, che per quanto sia silenzioso il quartiere, io sono diventato sordo dal rumore che c'è. Sì, perché la Forza Armata, bravo, questa è un'osservazione giustissima, è sempre intasata di macchine, quindi basterebbe spostare la fermata di Visceglie un po' oltre il confine di Milano e eviteremmo tutto questo traffico. Potremmo fare anche un'isola pedonale, dove la gente può camminare anche a Baggio e venire a piedi da Giordano a comprare i fiori. Se poi lui facesse come, vi spiego, sta sorridendo, a Sanremo, a Roma e a Torino, ma anche a Como e da altre parti, noi troviamo spesso dei, chiamiamoli ragazzi, tra virgolette, che non sanno cosa fare, vanno in giro con un mazzo di rose e dicono, signora, gliela regalo. Poi chiedono al suo accompagnatore o alla sua accompagnatrice, costa poco, solo un euro. E come prendi in mano quella rosa? Si piega, non dallo spavento, ma perché è stata trattata per rimanere in piedi fino al giorno prima. Oh, quadriamo il signore che a momenti cade dal... Eh, bisognerà anche sistemare questo... Sistemare, là c'è una buca, il passaggio di lì, le persone cadono, ogni tanto cadono. Adesso ci pensa il nuovo presidente. Ma ci hanno pensato anche gli altri, però... Ma tu sai chi è il nuovo presidente della zona? Eh? Tu sai chi è il nuovo presidente della zona? No, 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 no. Non hai ancora letto il Maggese, allora? No, ma l'hanno ancora da. Allora te ne lascio uno, si chiama Fabrizio Tellini, l'andremo a conoscere, poi parleremo con il nostro sindaco. Ma è venuto qualcuno qui al parco delle cave? Non lo so, non lo so, non lo so. Mi pare che sia venuta l'ex sindaco che ha detto se non mi votate finisce tutto male. No, 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 dopo le... Ah, dopo le elezioni. Allora aspettiamo il sindaco, Isapie. Al parco delle cave. Al parco delle cave. Lo invitiamo a venire a fare una bella visita nella nostra zona e siccome lui è riuscito, là dove non è riuscito nessuno da vent'anni a questa parte, cioè aiutato dal nostro premier a dare un sindaco di valore finalmente alla nostra città, perché dopo i sindaci socialisti, purtroppo salvo la parentesi Albertini, abbiamo... siamo caduti dalla padella alla braccia, adesso siamo ritornati in sella. Vedo che però Gioran è muto. Allora gli diamo un bacese, così lui si documenta, troverà quel poco che serve per rivolgersi a chi di dovere nella zona e se vuole lunedì può andare anche a conoscere il presidente, magari perché no. C'è il consiglio, lì in prima pagina tu trovi la convocazione del consiglio e siccome tu lunedì... Alle ore 21.30 ecco, tu lunedì sei libero, io invece sarò impegnato all'Ariston... Il solito dormo, però lunedì è giorno di riposo, oltre ad andare al circolino e fare la scopetta. Bravo, bravo. E spregare le cose commerciali. Ecco, allora vai lì e fai presente nella mezz'ora dedicata ai cittadini questi che sono i problemi che tu conosci della zona, pur non vivendoci. Prima il mio problema, che mi è scaduta la concessione. Giusto, giusto, perché come tutti noi dobbiamo prima fare quello che ci sta più a cuore. No, io ho questo problema, anzi, ti dirò una cosa, io pensavo che non scadeva neanche, una cosa del genere, dopo tutti i sacrifici che ho fatto per arrivare qua. Pensavo neanche. Caro Giordano, questo mi ricorda un problema che mi trattava un giovane che diceva, ma perché io non posso trovare lavoro? Perché quando lo trovo dopo un mese o due scaglie? E io gli ho fatto la domanda, cos'è per te la politica? Io posso capire che uno perde... Perché tra l'altro passano anche le croci verdi di Vanni. Eh, dalla mattina alla serena e qua saranno 100. Quindi, ti sto dicendo che uno perde il lavoro se la ditta fallisce. Sì. Altre spiegazioni non ce ne devono essere. Beh, ci può essere anche la non volontà del titolare della ditta o dell'attività di cambiare il collaboratore. Cioè, uno la cede e è buonanotte. È vero, però deve cedere anche la manodopera. Non è mica il primo che vende l'attività agli operai. Vero, 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 vero. Vero, 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 vero. Io pensavo di quello. Cioè, come può perdere un posto di lavoro un dottore? O uno che fa le pulizie in un negozio. Certo. O i generi di lavoro può perdere. Vero. Guardate di sabato 9 luglio che traffico che c'è. Immaginate durante le altre giornate, durante l'anno. Torniamo, Jordan. Allora, qual è il messaggio che vuoi dare a chi... Il messaggio è... Visionerà questo modesto filmato. Voglio il messaggio perché... Cosa ti devo dire. Eh. Vale la pena essere onesti o no? Cerco di aiutarti. Vale la pena pensare bene del politico o no? Ci siamo già dati una risposta, eh. Perché giustamente davanti al video Giordano, che è una persona tutt'altro che stupida, anzi, ci dà dei punti. Dovremmo imparare qualcosa da lui. Lo faremo socio onorario e lo inseriremo nel nostro staff. Insieme, ed è una proposta che facciamo pubblicamente, al nostro caro amico Lupi, che non deve aversene a male, ma quando ha fatto il commissario, quando ha fatto l'assessore, era presente in zona. Adesso che lavora alla Camera, come vicepresidente, non lo vediamo mai, 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 mai. Quindi lo invitiamo a partecipare, visto che la sua residenza è qui a Milano ed è nella zona 7 anche a questi problemi. Magari non è più la sua parte politica che comanda. Guarda che oggi c'è una maglietta verde. Allora, vuol dire, vuoi dire Giordano che sta rinascendo la Lega? Allora, ci sono anche le zanzare. Quelle non mancano mai di visitarci. E i topi. Anche grazie al bel impegno che ha fatto sempre il nostro vicepresidente della Camera, che ha aperto delle rogge vicino alle scuole. Dove vanno i topi e le zanzare. No, no, perché le rogge si aprono, i laghetti si aprono, ma poi si custodiscono. Quindi occorre… Ma non è, no? No, no, non è sto a me. Non sei contento del fatto delle cape? Non è. Non sono contento del come sta andando. Deve tornare Italia Nostra. Perché chi è arrivato dopo Italia Nostra ci ha portati a cadere dalla padella alla braccia. perché non ha mai coinvolto quelli che diceva di coinvolgere, non ha coinvolto i cittadini. Siamo appena passati adesso con dei miei collaboratori e abbiamo visto che ci sono dei bambini che fanno il bagno. Dentro la rogge? Dentro la rogge. Quindi non solo richiamano le zanzare, ma rischiano di far morire anche delle persone. Perché se un pesce siluro, che lì sotto ce ne sono parecchi, viene su e becca per i piedi una bambina di quelle, trascina sotto e muore. Quindi non si può fare questo. Anche se fa caldo e non abbiamo un posto dove andare a fare il bagno, piuttosto andiamo a casa e facciamo una doccia. Ma non portiamo le bambine o i bambini a fare il bagno. e con questo messaggio c'erano i genitori, i parenti e con questo messaggio Giordano ci salute, ci augura buone vacanze e verrà a trovarci a Roma. 9 luglio. Domani siamo a Siena per se non ora, quando? E la risposta delle donne qual è? Sai che non ho sentito per... No! La risposta delle donne è... È passata la macchina e ha coperto la tua voce. Allora, ripeto la domanda. C'è un'associazione che ci ha invitati a Siena e si chiama Se non ora, quando? Se non ora, quando? Ecco, la risposta deve essere... Adesso! Adesso! Che è quello che abbiamo fatto a Milano. cambiando e mandando a casa la Moratti che ha sempre ignorato i problemi della periferia ed è venuta solo quando doveva prendere i voti. Ma io non voglio essere polemico, voglio essere costruttivo e dire cara Moratti adesso che sei all'opposizione datti da fare almeno per colmare il buco che hai prodotto assumendo dai dirigenti. Così ci dicono, noi non abbiamo titolo per criticare. Però quei soldini lì ci andavano bene anche in zona 7. C'è gente che lo saluta da tutte le parti. Concludiamo veramente. Jordan è internazionale anche se è sfinto. Ciao a tutti.